Sono 20 le bandiere blu attribuite dalla FEE, la Foundation of Environment Education, che pongono la Calabria al terzo posto a livello nazionale. Un successo calabrese che si segnala per una new entry, Parghelia, che aggiunge così alle sue bellezze naturali questo prestigioso riconoscimento attribuito in base agli elevati standard di qualità delle acque e dei servizi offerti ai visitatori. E così questa regione, bagnata da due mari, Tirreno e Ionio, si colloca al terzo posto a pari merito con la Campania e dietro solo a Liguria e Puglia. Questo perché quest'anno sono in totale 485 le spiagge segnalate, 27 in più rispetto all'anno precedente e pari all'11,5% delle spiagge premiate a livello mondiale. Al top dunque la spiaggia di Parghelia, ovvero l'area tra Costa dei Monaci, Bordila, La Grazia e Verdano, Michelino, La Tonnara, che in provincia di Vibo Valencia, sulla Costa degli Dei, si affianca la riconfermata tropea con le spiagge della Marina del Convento, Marina dell'Isola, Rocca Nettuno. In provincia di Cosenza il riconoscimento è andato a Tortora, Praia e Mare, San Nicola Arcella con il suo arcomagno, Santa Maria del Cedro, Diamante con la Cirella, Rocca Imperiale, Trebisacce, Villa Piana, in provincia di Crotone, bandiera blu a Ciro Marina, Medissa, Isola Caporizzuto, nel Catanzarese, riconoscimento a Sedia Marina, Catanzaro, nell'area dello Giovino, Soverato con la Baia del Lippocampo, in provincia di Reggio Calabria, riconoscimento a Caulonia, Roccella Ionica, Siderno. Due gli approdi di bandiera blu 2024, il porto delle Grazie a Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, è la darsena turistica del porto di Cetraro, in provincia di Cosenza. È bene ricordare che i criteri di assegnazione sono il risultato di una valutazione portata avanti da un'apposita commissione, secondo un rigido schema procedurale e attraverso il contributo di diversi enti istituzionali. I 32 criteri del programma vengono aggiornati periodicamente per spingere le amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi per risolvere e migliorare nel tempo le problematiche relative alla gestione del territorio, al fine di un'attenta salvaguardia dell'ambiente. Grande rilievo viene dato alla gestione del territorio messa in atto dalle amministrazioni comunali da parte della FEE, Organizzazione Internazionale Non Governativa e No Profit, fondata nel 1981 con sede centrale a Copenhagen, in Danimarca, ed attualmente presente in 81 paesi nei 5 continenti. Deve iniziare che la bandiera blu in più per la Calabria è giunta da una località della Costa degli Dei, area che rappresenta un'attrattiva turistica a livello internazionale con ripercussioni positive non solo per i borghi marini, quanto per l'indotto che coinvolge in senso di crescita economica l'intera regione.